ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in un nuovo video allora oggi dobbiamo per forza di cose parlare di federico chiesa perché dobbiamo parlare di federico chiesa perché fortunatamente ieri è iniziata a circolare una notizia positiva quanto riguarda molto positiva che riguarda il riscatto da parte della juventus del cartellino del ragazzo alla fiorentina andranno quasi 50 milioni di euro in totale tra diritto ok quindi tra i soldi che sono stati pagati per prenderlo in prestito e appunto per il riscatto che la juventus ha dovuto esercitare per via della qualificazione matematica alla champions league più altri 10 di bonus che potrebbero arrivare nelle casse della fiorentina qualora dovessero realizzarsi concretizzarsi altri obiettivi perché sono contento di questa cosa perché avevo veramente paura che la juventus potesse decidere di esercitare o meno federico chiesa perché perché sul comunicato non erano stati analizzati discussi messi in primo piano gli obiettivi effettivi e quindi magari potevano essere obiettivi di squadra del tipo vincere lo scudetto o andare in semifinale di champions oppure che federico chiesa in questa stagione potesse fare 10 gol in totale e visto l'infortunio al ginocchio al crociato federico chiesa magari questi obiettivi non li avrebbero raggiunti e invece no la juventus è riscatta chiesa chiesa sarà tutto della juventus e attenzione che qualche giorno fa avevamo addirittura parlato di una possibilità legata a chiesa di vestire la maglia numero 10 della juventus indiscrezione che sta diventando sempre più forte sempre più chiacchierata sembra quasi che la juventus voglia veramente rendere federico chiesa il prossimo simbolo bianconero sono dell'idea che federico abbia tutte le carte in regola per diventare il nostro centro di gravità permanente però sicuramente avrà bisogno di tempo di tempo perché questo infortunio è rognoso questo infortunio è antipatico questo infortunio sicuramente andrà a portare via diverse energie fisiche e mentali allora la juventus si prepara sta già iniziando a ragionare su quella che sarà la prossima stagione su quella che sarà la juve della prossima stagione e qui voglio entrare a parlare sia di chiesa che di allegri perché ovviamente federico chiesa l'abbiamo detto riscattato forse addirittura numero 10 della juve significa giocatore che la juventus metterà in primo piano questo federico chiesa questo il nuovo simbolo della juventus federico è il nostro calciatore uno di quelli in grado di fare la differenza l'ha detto anche il presidente agnelli qualche settimana fa a un'intervista al foglio e quindi che cosa succede che massimiliano allegri dovrà puntare per forza di cose su federico chiesa ma quando tornerà effettivamente federico chiesa e allora la juve dovrà muoversi di conseguenza attenzione ricordiamoci che ci sarà una juve con chiesa e una juve senza chiesa anche nella prossima stagione perché federico aveva in testa il recupero per il mondiale il mondiale l'italia non lo andrà a fare quindi non ha nemmeno necessità di accelerare e di scalare le tappe e di arrivare pronto a un appuntamento dove purtroppo ci metteremo tutti qua sulla nostra poltrona a guardarcelo in televisione e a sostenere non lo so vlaovic del it altri giocatori che saranno impegnati con le loro nazionali diversa dalla nostra però federico avrà tutto il tempo quindi io mi immagino un chiesa che tornerà operativo o comunque disponibile convocabile per la fine dell'anno forse addirittura all'inizio dell'anno nuovo quindi quasi un anno di inattività e fino ad allora la juventus dovrà adottare altre strategie in chiave mercato e ovviamente la cosa più importante sul campo e allora massimiliano allegri come si muoverà di conseguenza perché ovviamente la juve sta cercando anche altri profili si parla molto di angel di maria giocatore che dovrebbe arrivare a parametro zero per andare a prendere il posto di paolo di bala perché un giocatore bravo a rientrare sul piede mancino bravo a sfruttare l'ampiezza cosa che magari di bala è un po più bravo a giocare tra le linee e quindi potrebbe essere il giocatore ideale da utilizzare in un ipotetico eventuale 4 3 3 con chiesa sinistra quando tornerà vlaovic al centro e appunto di maria sulla destra ora ne abbiamo parlato tante volte e ve l'ho detto tante volte io credo che allegri non abbia in testa esattamente questo 4 3 3 puro e vi dico puro perché l'abbiamo analizzato tante volte allegri ha utilizzato sì il 4 3 3 ma l'ha fatto in maniera strana e cioè con un attaccante magari un esterno puro come poteva essere daglas costa come poteva essere bernardeschi come poteva essere chiesa addirittura come poteva essere quadrado quindi un attaccante esterno puro dall'altra parte invece a sinistra ha sempre messo un giocatore un po più impostato quasi più attaccante mario manzukic alvaro morata moise ken e vedremo quali altri nomi quindi mi viene a pensare magari di maria lo metti lì davvero sulla destra e a sinistra uno tra morata che però non sappiamo se verrà riscattato ken che non sappiamo se verrà riscattato ora spadori che un altro di quei nomi chiacchierati e vediamo se effettivamente sarà potrà essere un nome da juventus ma un profilo diverso più un attaccante da una parte e più un esterno dall'altra il problema è che non mi immagino di maria venire a fare tutta la fascia a destra per coprire o viceversa non mi vedo nemmeno raspadori farlo a sinistra e allora qua apro una piccola parentesi mi piacerebbe in realtà un allegri che inizia a fare un passo in avanti sotto questo punto di vista perché capisco la volontà di difendere con un certo modo quindi difendere 4 4 2 però allora delle due giochiamo 4 4 2 senza dover sempre schierare un giocatore fuori ruolo in una delle tre fasi per dire mi viene in mente l'esempio di manzukic che era stato vincente nel 4 2 3 1 ma manzukic non era un esterno di sinistra è stato messo lì per fare equilibrio ma manzukic quel ruolo l'ha interpretato alla grandissima cosa diversa invece quest'anno con adri il rabiot che tante volte è stato messo lì però non è il suo ruolo fa fatica stringe troppo e allora come dicevo anche ieri da una parte a sinistra si attacca poco ecco mi piacerebbe iniziare a costruire la juventus per andare esattamente incontro alle esigenze dell'allenatore a me sinceramente che si giochi col 3 5 2 col 4 4 2 col 4 2 3 1 col 4 3 3 non me ne frega niente mi importa che la squadra sia costruita secondo le idee dell'allenatore senza bisogno di inventarsi sempre qualcosa di nuovo tutte le settimane ve lo ripeto ancora una volta ragazzi non è normale che l'ultima juve di allegri la juve di pirlo e quest'ultima juve di allegri 3 juventus negli ultimi quattro anni non abbiano mai schierato per due volte di fila la stessa formazione soltanto sare ha dato continuità ogni tanto agli stessi 11 giornata dopo giornata pirlo allegri e allegri non l'hanno mai fatto e questo è indice ovviamente di una squadra che magari è costruita in un modo un po' particolare o in quale dove comunque i giocatori non hanno un valore assoluto elevatissimo per dire quando c'erano pogba vidal pirlo e marchisio giocavano pogba vidal pirlo e marchisio per era faceva panchina oggi invece hai rabiot e tanti altri e dici che giochi uno che giochi quell'altro si cambia qualcosa ma non troppo de sciglio pellegrini alexandro non si è ancora capito chi è il titolare come terzino sinistro quindi mi piacerebbe iniziare a avere delle gerarchie ben definite questo è il titolare quindi quando c'è le gioca sempre e gioca in quella posizione perché è più adatta alla sua alle sue caratteristiche e a quello che serve per la squadra e attenzione perché addirittura mi immagino un federico chiesa che potrebbe essere utilizzato davvero come esterno di sinistra perché perché allegri tante volte ci ha detto federico chiesa il suo futuro ed attaccante e che quindi magari sulla destra voglia un giocatore come può essere ad esempio quadrado abile a venire anche a fare il quarto a centrocampo per lasciare davanti chiesa e vlaovic con quadrado che si fa tutta la fascia però quadrado in sé servecchio e allora se serve un giocatore con quelle caratteristiche andiamo a prenderlo o magari può essere a che aggregato alla prima squadra però sinceramente mi sono stancato di dover giocare con tre centrocampisti però alcuni non sono centrocampisti perché poi si allargono si stringono avanti alle linee credo che sia più opportuno semplificare il più possibile il tutto perché quando una squadra è in salute è in fiducia ha dei meccanismi ben oliati sa che cosa deve fare allora questo spostarsi di continuo per il campo a seconda della fase di possesso non possesso viene anche bene guardate il manchester city di guardiola sanno fare quella cosa molto bene la fanno a memoria la fanno a ripetizione attaccano 3 5 2 difendono 4 4 2 lo sanno fare perfetto noi siamo non dico un passo dietro al manchester city di guardiola siamo 12 mila chilometri dietro rispetto al manchester city di guardiola quindi non siamo ancora in grado di poterci destreggiare in questi moduli fluidi che sono sicuramente il futuro del calcio giocato ma con i quali noi facciamo ancora un po più fatica il massimo che possiamo fare secondo me è arretrare un regista tra i due centrali e quindi fare questo questa difesa 3 in fase di impostazione con il nostro vertice basso del centrocampo che può essere locatelli artur mi reti quello che è per dare ampiezza che attaccare 3 4 3 ad esempio però poi la fase di non possesso diventa un po più complicata e allora magari semplicemente difendiamo 4 5 1 così rimane sempre 4 3 3 sono queste piccole cose secondo me che vanno sistemate perché non siamo ancora una squadra pronta per quanto mi riguarda a fare tutte queste cose che gli allenatori vincenti di oggi nelle squadre vincenti di oggi magari fanno sì però hanno anche costruito negli anni delle squadre adatte con dei giocatori adatti dei mercati adatti e noi e questo manca purtroppo da diverso tempo poi ieri parlavano mi sono dimenticato di dire una cosa anzi due in realtà sul video di confronto tra pirlo allegri tra le due stagioni per quanto rimangano due stagioni secondo me quasi fotocopie l'una dell'altra ma comunque vi invito a guardare quel video magari ci sono delle informazioni che possono essere utili e importanti anche per voi aggiungo una cosa ieri dicevo che l'unica cosa positiva è stata qualificarsi con tre giornate d'anticipo alla Champions spetta l'anno scorso che in realtà si siamo qualificati per rotto della cuffia l'ultimo secondo c'è anche un'altra cosa macro positiva che ho spesso detto ma mi sono dimenticato di riportare in quel video e cioè abbiamo anticipato di un anno la partenza di Cristiano Ronaldo e quindi abbiamo messo i paletti per ripartire cosa che avremmo dovuto fare invece l'anno prossimo e sappiamo l'abbiamo visto le prime partite post partenza di Cristiano Ronaldo comunque con Cristiano Ronaldo prossimo all'addio non sono state facili proprio per niente quindi noi questo step in teoria abbiamo già superato non dobbiamo tornarci sopra questa è una cosa molto importante la seconda è che per quanto ribadisco le due stagioni sono penso quasi inaccettabili per lo status che aveva raggiunto la Juventus negli anni sono abbastanza convinto che Pirlo avrebbe fatto molta più fatica rispetto ad Allegri con l'accessione di Cristiano Ronaldo all'ultimo forse sono anche convinto che sarebbe riuscito a dare più valorizzazione a Vlaovic perché secondo me è uno dei problemi di Vlaovic in questo momento che sta mantenendo comunque delle medie realizzative alte importanti quasi come quelle della Fiorentina però a Vlaovic arrivano pochi palloni giocabili e quindi questo sicuramente è uno dei punti da migliorare mettere la Juventus in modo che possano arrivare dei palloni giocabili a Vlaovic e abili attaccare la profondità e allora diamogli la possibilità di attaccare la profondità e non farlo sempre giocare spalle alla porta perché probabilmente Vlaovic ad oggi ha fatto il minimo indispensabile per quello che poteva fare alla Juventus per quanto riguarda poteva fare anche di più ma non è riuscito a farlo non per colpa sua ma perché la Juventus non lo sta mettendo nelle migliori condizioni possibili e questo spiega il fatto che siamo il decimo undicesimo mi ricordo neanche più attacco della Serie A quindi questa è una cosa che va assolutamente migliorata aggiungo per finire che una piccola critica ad Allegri riguarda il Braccino me ne parlavo l'altro giorno mi è quasi sembrato di vedere questa cosa quest'anno e sono tutti punti secondo me dai quali dobbiamo ripartire l'anno prossimo con la speranza che questi punti possano diventare miglioramenti perché secondo me quest'anno sono state cose negative e cioè mi viene in mente il Villareal mi viene in mente l'Inter due partite giocate a viso aperto poi nel col Villareal magari il secondo tempo non è stato di livello però l'impronta della partita è stata facciamola noi noi non siamo in grado di fare la partita si è visto abbiamo perso abbiamo magari creato delle buone occasioni ma non siamo in grado di fare la partita quindi a un certo punto Allegri ha deciso di tornare un po' indietro il famoso Braccino finché sei in fiducia tiri forte quando invece inizia a non vincere allora un po' più cauto per cercare di portare a casa il risultato che va benissimo non è un problema però allora perché nelle partite decisive Allegri ha chiesto questo level up ai suoi calciatori forse mettendole anche un po' più in difficoltà rispetto a quello che era sempre stata la richiesta di cercare di fare le cose con calma a portare a casa il risultato quindi il discorso di prima noi non siamo pronti a fare queste cose non siamo quelle Juve di Allegri transformiste in cui magari ci sono delle partite in cui fai davvero male la partita dopo è un ritorno di ottavi di Champions League contro l'Atletico e fai tripletta con Cristiano Ronaldo col modulo trasformista e Mrech anche fa il difensore centrale un po' il centrocampista perché non siamo ancora pronti per farli a quei livelli e quindi allora il discorso è in queste ultime giornate di campionato e visto e considerato che c'è l'Inter la finale di Coppa Italia tra neanche una diceva giorni tra otto giorni già col Genoa mi piacerebbe vedere un'impronta diversa della Juventus perché ricordatevi che l'Inter non ci regalerà niente a meno che non si voglia andare a fare una partita un po' più attendeista con l'Inter magari come era stata all'andata a San Siro come era stata la finale di Supercoppa dove comunque avevi un sacco di assenti noi non siamo ancora pronti per fare la partita e sicuramente la sola partita col Genoa non ci aiuterà però ci deve essere una bella via di mezzo tra quella che è stata Juventus Inter e quella che è stata Juventus Venezia o Juventus Bologna o comunque non mollare come era stato fatto dopo il gol del 1-0 Juventus Venezia ma continuare ad andare avanti perché tante volte ragazzi quando facciamo gol la mia è un'esplosione di gioia perché il gol è sempre una cosa bellissima poi ci penso un attimo e dico o no se ho capito la Juve ora cercheremo di abbassare i tremendamenti ritmi e creeremo sempre meno e andremo a soffrire sempre di più e si è concretizzato ancora una volta anche con il Venezia quindi non sono forse pronto a fare questa cosa qua vediamo che cosa vorrà fare la Juve vediamo che cosa sta pensando Allegri per questo finale di stagione che ribadisco non c'è niente di importantissimo se non la Coppa Italia poi terzo quarto posto mi piacerebbe arrivare terzo ma se arrivo quarto da terzo a quarto ragazzi c'è lì eh non è che dici wow perso yes siamo lì però la la finale di Coppa Italia la voglio portare a casa e voglio iniziare a mettere delle idee per l'anno prossimo e cercare di capire se Allegri questi ulteriori step mentali li potrà fare poi queste sono cose che non è che deve fare perché ehi ti ordino di farle queste sono mie considerazioni personali cose che ho visto quest'anno sulla Juventus che la Juventus ha eseguito che non mi sono piaciute al cento per cento e che semplicemente gradirei vedere l'anno prossimo